Ciao a tutti ragazzi, sono VigoGlob e siamo tornati qua con un nuovo video Rainbow Screezy in compagnia di altri quattro compagni da giocare tre che non so neanche contare oh ma nessuno va a fare le botte? no, non so, si dovrebbe andare fuori io devo fare la roba qua del pulso poi tu vuoi fare il brotterbrook? siamo a 5 secondi devo fare il vagone ma poi prima questa vigo no? no, prima faccio quella normale ciao basta non posso più chiudere vaffanculo addio mi stavano lasciando in faccia aiuto ragazzi dai come è possibile aiuto che culo che culo raga ai prince ammazzato io ho pochissima vita per morire droni droni distrutti blackbird blackbird se l'altro ammazzato non spara col pompo Enzo da lì ti foto non ti scendono dalla botola va a te per favore sta dentro dai filippo vai nell'angolo nell'angolo filippo nell'angolo si lo so si lo so ha scappato scusione oh volta la botola quest'alto no nel morte raga ho sparato prima me lo coglione sono tutti lì riesce a buttare no ti vedi ti vede qualcosa di mira chi che ha messo in mirale con io io ma no è giusto pure lì ti fai lasciata col pompo tanto lo ammazzo ti fai infatti lasciata col pompo no no da qui non l'ho guardato non l'ho visto no brokix mira a sinistra brokix mira la porta mira la porta così mira come porta così dai dal corridoio per colpa di filippo che ci ha messo in mirale dietro dietro brokix eh sì ma c'è pure di là o no 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 sopra 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 non sopra ho visto lo sparo di odica vero di avere uccisa potete andare in danza uno sopra c'è uno sopra non siamo tranquilli che un altro che è scappata con lo sopra scappato no raga mi sto grattando il pisello c'è nemmeno sopra te lo fai e di essere sinistra in fondo e lì in quelle scale lì era prima no quelli dico bella manco assist brooke vai sotto con il termite e spacca il pavimento con loro martello qualche quanto quanto no no e qua e qua ma la brux pack spattata ancora ma è 9 sotto me sotto me so di seguiti ci segue twitch no cazzo ma i dati ci vede sui ci vede qui vai sotto mira mira con calma attivo il drone o il posto portare quella puntata ve lo fa per quel buco spai in quel bocchino spai quel bocchino spai quel bocchino attività nemica tornate a occuparvi del contenitore dopo averne un trattato dimenticatevi dei contenitore tornate a occupare di sinistra e sinistra dentro lo stanzino mira brooke dietro brooke dietro brooke dietro brooke dietro brooke dietro non è vero dentro lo stanzino metti si mettilo che lo faccio ascoltatevi lo mette de mira non lo mette il territorio diciamo il twitch no mira la metto qua sicuro al cento per cento mira quello guarda mia connection guarda connessione di enzo guarda brooke guarda siamo in calabia guarda quella di brooke guarda però mi vedi che questa connessione per me adesso è buona ah voglio prima non la c'è un salto vabbè tu hai dei cavici non spacchi corretti dai filippo mi stanno installando la fiba a me si mancano 5 ce la stanno ancora installando non ce l'hanno ancora installata l'hanno messo l'hanno messo già il nemico ha individuato il contenitore di biorismo rinforzo il pavimento si voglia e tu non ci si chiudi e piscito no no capi no no e' giusto qua e' giusto tu non parla a piscito ti voglio non devo parlo andai vai via 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 garage mi ha unicato mi ha unicato vai via 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 vai dietro il corso di mira poi l'ho visto l'ho visto bella più che l'ho visto anche io no dai no dai no 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 perché questo è andato sopra che dai bravo dai però non ci credo ciro italiana dov'è dov'è è sopra uno e sopra c'è tu mira con le schermine mira con le schermine dietro c'è un netto delle camera quindi cosa arrivano quella lì si ok ci lascio qua fermo ci lascio da dietro ci lascio da dietro qui da ok devono fare esplodere Fili potrebbe spaccato Fili potrebbe spaccato sta usando il drone sta usando il drone Fili bravo che è indietro come è stata un ufficio non lo so ma quale come ne ha tre mi sto dando un'altra mira lì entrano sta entrando sta entrando è qua sta entrando ti vedo che è un uomo di bucchi mira di bucchi mira mira le schermine dice che era sopra Twitch prima era sopra Twitch io un mazzo da uno lì sopra è qua Twitch c'è qua Twitch dietro dietro sì 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 più a sinistra dalle scale rampa dalla rampa mira le scale più brutta mira le scale bro mira lì bravo un'idea che arriva dall'altra parte no non può perché se muoio poi arriva dalle scalinate quelle lunghe ho capito ah non più brook 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 più kill lì vigo club 2 0 la mia mira bella brook io c'ho due assist mono bella bella e deve equitare entro connessione dei punti entro entro da brook ecco come come entra Filippo ce n'è uno dentro e basta zitti postati almeno Filippo lo dico prima ma Enzo quitta la connessione dei puffi quel bimbo di merda guarda questo qui c'è un diamante squadra squadra ad attacco difendite la stanza si però Vigo se più fai qualche chi strano non c'è invece brook brook rinforzo il muro attivazione telecamera disaspinato in campo drone nemico ha trovato il contenitore di biorischio mancano 10 secondi rettano 5 secondi vediamo se possiamo fare qualcosa va bene va bene grazie bimbo di merda è così bello il tuo mira praticamente l'hanno già rotto stanno rushando ricognizione non sono insomma non andare Vigo Vigo torna dentro per favore dobbiamo stare calmi tu devi stare calmo io sto qua con mira dai per difendere il gol veramente missione fallita difensori neutralizzati mi fai schifo Fili non vuoi si 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 oh accompagna Fiozza a Fiozzare sopra no si tanto ti sta seguendo ma più caricatore perso o mille mille eh son dovuto andare da lì perché mi hai detto segui segui feuds dovevam perso dai facciamoci cambacare e perdiamo a secco accompagnalo tu a Fioz dai Fioz è in questa porta Fioz Fioz devi fiuzzare sopra devi andare vai via vai via vai via ecco devi stare le vicine no 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 non muore 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 hai lato sotto di chi mamma mia no no non ci vedo come ci vedo in generale Piazza una carica da irruzione Ultimo uomo per la squadra alleata Porca di quella puttana io Ce la puoi fare Ora non più Bravissimo Difensori eliminati Questi si che sono veri giocatori Io sono un fiat Vabbè dai abbiamo vinto Grazie a tutti per aver visto questo video Ricordatevi di iscrivervi e di mettermi piace al canale Ciao a tutti ragazzi